Tornani i velocisti protagonisti, una tappa completamente pianeggiante, come stai? Ma intanto completamente pianeggiante non proprio, nel senso che comunque è un po' mossa nella parte centrale, non dico che farà selezione, però sicuramente dopo i giorni duri che ci sono stati si farà sentire. Io ho un po' di problemi con l'allergia, però insomma oggi sicuramente non mi tiro indietro, è una giornata di quelle dove voglio fare bene, la squadra è pronta, è preparata per gli sprint, quindi siamo fiduciosi. Ho avuto sicuramente delle giornate non semplicissime, però so che il giro è lungo, quindi c'è tempo per rifarsi. Oggi proverete a controllare la corsa, visto che si prospetta anche la possibilità di che parta una fuga importante? Ma sì, sicuramente noi siamo intenzionati a tenere la corsa e non penso saremo gli unici, quindi vedremo di trovare collaborazione.